Giona, capitolo primo La parola dell'Eterno fu rivolta a Giona, figliuolo di Amitai, in questi termini. Levati, va a Ninive la grande città, e predica contro di lei, perché la loro malvagità è salita nel mio cospetto. Ma Giona si levò per fuggirsene a Tarsis, lungo dal cospetto dell'Eterno, e scese a Giaffa, dove trovò una nave che andava a Tarsis, e pagato il prezzo del suo passaggio, si imbarcò per andare con quei della nave a Tarsis, lungi dal cospetto dell'Eterno. Ma l'Eterno scatenò un gran vento sul mare, e vi fu sul mare una forte tempesta, asì che la nave minacciava di sfasciarsi. I marinai ebbero paura, e ognuno gridò al suo Dio, e gettarono a mare le mercanzie che erano a bordo per alleggerire la nave. Ma Giona era sceso nel fondo della nave, e s'era coricato e dormiva profondamente. Il capitano gli si avvicinò e gli disse, — Che fai tu qui a dormire? Levati, invoca il tuo Dio, forse Dio si darà pensiero di noi e non periremo. Poi dissero l'un all'altro, — Venite, tiriamo a sorte per sapere a cagione di chi ci capita questa disgrazia. Tirarono a sorte, e la sorte cadde su Giona. Allora essi gli dissero, — Dici dunque a cagione di chi ci capita questa disgrazia? Qual è la tua occupazione? Donde vieni? Qual è il tuo paese? E a che popolo appartieni? Egli rispose loro, — Sono ebreo, e temo l'Eterno di Dio del cielo, che ha fatto il mare e la terra ferma. Allora quegli uomini fuggirono presi da gran spavento, e gli dissero, — Perché hai fatto questo? Poiché quegli uomini sapevano che egli fuggiva lungi dal cospetto dell'Eterno, già che egli aveva dichiarato loro la cosa. E quelli gli dissero, — Che ti dobbiamo fare perché il mare si calmi per noi, poiché il mare si faceva sempre più tempestoso? Egli rispose loro, — Pigliatemi e gettatemi in mare, e il mare si calmerà per voi, perché io so che questa forte tempesta vi piomba addosso per caso mia. Non di meno quegli uomini davano forte nei remi per ripigliar terra, ma non potevano, poiché il mare si faceva sempre più tempestoso e minaccioso. Allora gridarono all'Eterno e dissero, — Deo Eterno, non lasciare che periamo per risparmiare la vita di quest'uomo, e non ci mettere addosso del sangue innocente, poiché tu, Eterno, hai fatto quel che ti è piaciuto. Poi presero Giona e lo gettarono in mare. E la furia del mare si calmò, e quegli uomini furono presi da un gran timore dell'Eterno, e offrirono un sacrificio all'Eterno, e fecero dei voti. Giona, capitolo secondo E l'Eterno fece venire un gran pesce per inghiottir Giona, e Giona fu nel ventre del pesce tre giorni e tre notti. E Giona pregò l'Eterno, il suo Dio, dal ventre del pesce e disse, — Io ho gridato all'Eterno dal fondo della mia distretta, ed egli mi ha risposto. Dalle viscere del suo giorno dei morti ho gridato, e tu hai udito la mia voce. Tu m'hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare. La corrente mi ha circondato, e tutte le tue onde e tutti i tuoi flutti mi sono passati sopra. Ed io dicevo, — Io sono cacciato via lungi dal tuo sguardo. Come vedrei io ancora il tuo Tempio Santo? Le acque mi hanno attorniato fino all'anima, l'abisso mi ha avvolto, le alghe mi si sono attorcigliate al capo. Io sono disceso fino alle radici dei monti, la terra con le sue sbarre mi ha rinchiuso per sempre. Ma tu hai fatto salire la mia vita dalla fossa, o Eterno Dio mio. Quando l'anima mia veniva meno in me, io mi sono ricordato dell'Eterno, e la mia preghiera è giunta fino a te nel tuo Tempio Santo. Quelli che onorano le vanità bugiarde abbandonano la fonte della loro grazia. Ma io offrirò sacrifici con canti di lode, e adempierò i voti che ho fatto. La salvezza appartiene all'Eterno. E l'Eterno dia l'ordine al pesce, e il pesce vomitò Giona sull'asciutto. Giona capitolo terzo E la parola dell'Eterno fu rivolta a Giona per la seconda volta in questi termini. Levati, va a Ninive la grande città, e proclamale quello che io ti comando. E Giona si levò, e andò a Ninive secondo la parola dell'Eterno. Or Ninive era una grande città dinanzi a Dio, di tre giorni di cammino, E Giona cominciò a inoltrarsi nella città per il cammino di una giornata, e predicava, e diceva Ancora quaranta giorni, e Ninive sarà distrutta. E Niniviti credettero a Dio, bandirono un digiuno, e si vestirono di sacchi dai più grandi ai più piccoli. Ed essendo la notizia giunta al re di Ninive, questi si alzò dal trono, e si torse di dosso il manto, si coprì d'un sacco, e si mise a sedere sulla cenere. E per decreto del re e dei suoi grandi fu pubblicato in Ninive un bando di questo tenore. Uomini e bestie, armenti e greggi non assaggino nulla, non si pascano e non bevano acqua. Uomini e bestie si coprono di sacchi e gridino con forza a Dio, e ognuno si converte dalla sua via malvagia e dalla violenza perpetrata dalle sue mani. Chi sa che Dio non si volga, non si penta e non acquieti l'ardente sua ira sì che noi non periamo. E Dio vide quel che facevano, vide che si convertivano dalla loro via malvagia, e si pentì del male che aveva parlato di fare loro, e non lo fece. Giona capitolo quarto Ma Giona ne provò un gran dispiacere, e ne fu irritato, e pregò l'Eterno dicendo, O Eterno, non è egli questo che io ti dicevo, mentre ero ancora nel mio paese? Perciò, ma frettai a fuggire a Tarsis, perché sapevo che sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira, e di gran benignità, e che ti penti del male minacciato. Ordunque, Eterno, ti prego, riprenditi la mia vita, poiché per me va al meglio morire che vivere. E l'Eterno gli disse, Fai tu bene a irritarti così? Poi Giona uscì dalla città, e si mise a sedere a oriente della città, e si fece quivi una capanna, e vi sedette sotto all'ombra, stando a vedere quello che succederebbe alla città. E Dio l'Eterno, per guarirlo dalla sua irritazione, fece crescere un ricino che montò su di sopra Giona per fargli ombre dal capo, e Giona provò una grandissima gioia a motivo di quel ricino. Ma l'indomani, allo spuntare dell'alba, l'Iddio fece venire un verme, il quale attaccò il ricino, ed esso si seccò. E come il sole fu levato, l'Iddio fece soffiare un vento soffocante d'oriente, e il sole picchiò sul capo di Giona, sì che gli venne meno, e chiese di morire, dicendo, Meglio è per me morire che vivere. E Dio disse a Giona, fai tu bene a irritarti così a motivo del ricino? E gli rispose, sì, faccio bene a irritarmi fino alla morte. E l'Eterno disse, tu hai pietà del ricino per il quale non hai faticato, e che non hai fatto crescere, e che è nato in una notte, e in una notte è perito. E io non avrei pietà di Ninive, la grande città, nella quale si trovano più di centoventimila persone, che non sanno distinguere dalla loro destra, dalla loro sinistra, e tanta quantità di bestiame, e quindi, e l Bana, a loro tin era un'avio giù e